Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Covid, la scuola, la Cislea che lancia l'allarme sul numero dei positivi all'interno degli istituti. Critiche sono arrivate per il metodo con cui sono state gestite le campagne di screening. Paolo Renzetti. Segretario, voi avete parlato in questi giorni dell'esplosione di casi Covid nella scuola abruzzese, situazione che voi ritenete sicuramente difficile. Sì, è una situazione difficile. Abbiamo detto che lo screening andava avviato per tempo, prima del rientro. Sebbene le intenzioni sono state positive, perché c'è stato questo ritardo però solo di due giorni, i risultati si sono visti. Appena il 60% ha partecipato, molti disincentivati dall'organizzazione, ore e ore di attesa, soprattutto per i bambini più piccoli che necessariamente andavano accompagnati, quindi file chilometriche, ore di attesa, un tempo troppo stretto. Se si fosse fatto lo screening in maniera diversa, con più tempo, con una migliore organizzazione, probabilmente il livello di sicurezza assicurato sarebbe stato maggiore e avrebbe convinto tanti al rientro a scuola, perché lunedì 10 a scuola i ragazzi non c'erano. Voi sostenete che bisognava riaprire le scuole forse una settimana dopo, due? Sì, il tempo strettamente necessario per fare una reale campagna di screening, per trovare i positivi asintomatici, perché poi il problema grosso è stato questo. Abbiamo un picco enorme di contagio, se in presenza, in passato abbiamo parlato di ondate, adesso siamo davanti a uno tsunami di contagio. Ci sono anche diversi insegnanti, personale scolastico a casa a causa Covid? Sì, fortunatamente la copertura delle vaccinazioni è stata relativamente buona, però il picco di contagio ha coinvolto anche il personale, quindi tanti sono a casa con la malattia. Quindi in questa situazione, la seconda parte dell'anno scolastico, come si prospetta, si prospetta con carattere forte di discontinuità, perché man mano la popolazione scolastica e i lavoratori saranno interessati dal contagio. Le norme di precauzione nella scuola vengono rispettate, ma esiste sempre il problema del tempo prima dell'entrata, del tempo successivo all'uscita dei trasporti scolastici. In quelle condizioni non c'è alcuna prevenzione. E la pandemia ha acuito il consumo di droghe, soprattutto tra i più giovani. Ieri l'Aggiunta regionale abruzzese ha approvato, su proposta dell'assessore Verri, un nuovo protocollo per facilitare lo scambio di informazioni tra diversi enti, così da monitorare la diffusione di sostanze illegali. Giuseppe Lintino. Ansia, stress, depressione, isolamento. Gli ultimi due anni, di cui il primo trascorso per lo più tra le mura di casa, ci hanno costretto a fare i conti con la fragilità della nostra psiche. Tra paura del virus, incertezza e solitudine, i numeri parlano chiaro. La pandemia ha incrementato il consumo di droghe, soprattutto tra i giovani. Il lockdown non ha danneggiato il narcotraffico. Oggi acquistare stupefacenti online è semplicissimo ed anche comodo, perché così sono recapitati direttamente tra la posta. Secondo il rapporto ESPAD del CNR, nel 2019, ultimo dato disponibile, i ricoveri per cause correlate all'uso di droghe in Abruzzo sono stati 187 nella fascia di popolazione degli under 34. Si tratta di un'incidenza di 44,2 ogni 100.000 abitanti, di cui oltre il 73% di sesso maschile. Nello stesso anno un abruzzese su tre, tra i 15 e i 19 anni, ha ammesso di aver provato, almeno una volta, una sostanza illegale. Al di là che si trattasse di oppiaci, allucinogeni, cocaina o cannabis. La giunta regionale ieri ha approvato, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Veri, un nuovo protocollo per reprimere questi fenomeni. Non si tratta di un finanziamento volto a incrementare il supporto psicologico o a combattere le dipendenze, quanto piuttosto di un'intensificazione di scambio di informazioni, nei limiti della privacy, tra forze dell'ordine, sanità, scuola, famiglie e mondo dello sport. La notizia arriva nello stesso giorno in cui a Roma, tramite decreto interministeriale tra i dicasteri della salute, dell'agricoltura e della transizione ecologica, la cannabis, cosiddetta light, ovvero senza principio attivo, è stata dichiarata sostanzialmente illegale. Vi sono però sostanze che, benché assolutamente illegali, sono ben lungi dall'essere non nocive o dal non creare dipendenza. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia nel 2019 sono finite al pronto soccorso, per aver bevuto troppo, 4.723 minorenni. L'anno successivo, poi, allo scoppiare della pandemia, il consumo di alcol è aumentato del 446%, del 209% nella fascia d'età tra i 18 e i 24 anni. Secondo il trentatresimo rapporto Eurispes, inoltre, un italiano su cinque soffre di disturbi legati alla depressione. Ciò ha portato, come riferisce ICVIA, la multinazionale che analizza i numeri delle case farmaceutiche, ad un incremento del consumo di psicofarmaci. Nel periodo da gennaio a settembre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, il consumo di antidepressivi è cresciuto del 2,5%, mentre i farmaci per insonnia e ansia hanno registrato un boom del 24%. La politica, diverse voci negli ultimi giorni parlano di una crisi in seno alla maggioranza del comune di Chieti. A smentire il tutto però sono gli stessi protagonisti, Paolo De Cesare e del Polo Civico Tiatino, da una parte Enrico Iacobitti, dall'altra che dicono lavoriamo per far crescere questa città. Vediamo. Nessun litigio e nessun rimpasto di giunta a Chieti. Dunque è rientrato, almeno per il momento, la possibilità di vedere Manuel Pantalone e Paolo De Cesare lontani dall'attuale maggioranza. La conferma arriva dallo stesso vice sindaco e leader del Polo Civico Tiatino, per cui gli impegni presi con la cittadinanza un anno e mezzo fa vanno mantenuti, soprattutto in questo momento storico in cui le risorse derivanti dal PNRR saranno fondamentali per la ripartenza post-Covid. No, sono voci di chi si diverte a giocare a nascondino, direi. Credo che le elezioni a Chieti sia inequivocabile che le abbia vinte non il centrosinistra, ma il centrosinistra con il Polo Civico Tiatino. che è quello che io mi onoro di rappresentare. Magari se c'è Stato e se c'è qualche problema ordinario di amministrazione lo si chiarisce, ci si confronta nei tavoli preposti, nei tavoli politici, perché indubbiamente ci possono essere anche diversità di visioni e di approcci alla macchina amministrativa, ma lo sono sempre nell'interesse della città e dell'amministrazione. Alcune vedute differenti su nomine di dirigenti, ma non solo. Vedi le recenti elezioni provinciali alla base di alcune discussioni accese tra il Polo Civico e il centrosinistra, che a sua volta smentisce di aver intavolato discorsi con il gruppo dell'ex candidato sindaco di Iorio. Se ne saprà di più a seguito di un incontro di maggioranza che sarà convocato da qui a breve dal segretario cittadino del Partito Democratico Enrico Iacobitti. Ed evidentemente su quel tavolo politico, qualora ci saranno delle necessità, saremo disponibili anche a delle valutazioni, ma nell'interesse, ripeto, anche della città e non evidentemente per la necessità, non so esattamente di chi, di volere ridiscutere di poltrone o di nuove, diciamo così, posizioni. L'amministrazione comunale di Pescara ha notevolmente alzato le sanzioni per chi abbandona rifiuti. Si tratta di un deterrente, spiegano il presidente della Commissione Ambientale Petrelli, l'assessore del Trecco. Vediamo. Multe salatissime per chi sporca la città. L'amministrazione comunale di Pescara ha rivisto i regolamenti del testo unico ambientale, rendendo assai più severe le sanzioni pecuniarie. In particolare, la multa per abbandono di rifiuti in strada, su marciapiede o in qualunque area, passa dall'attuale massimo di 250 euro a quello di 3.000 euro, che diventa di 26.000 euro in caso di rifiuti speciali o pericolosi. Buttare una cartaccia o una cicca di sigaretta a terra, oppure non raccogliere le deiezioni del proprio cane, costerà almeno 500 euro invece degli attuali 25. A controllare saranno i quattro ausiliari ambientali e la Polizia Municipale e a breve, fanno sapere dal Comune, verrà ulteriormente aumentato il numero di telecamere in città. Purtroppo continuiamo a vivere con la piaga dell'inciviltà, hanno dichiarato in un comunicato stampa il presidente della Commissione Ambiente, Ivo Petrelli, e l'assessore Isabella del Trecco. Piaga che, secondo le sintroppe facili previsioni, proseguirà fino a quando avremo un solo cassonetto stradale lungo le nostre vie. L'amministrazione infatti sta ampliando il servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti. Dal 24 gennaio riguarderà l'intero quartiere Colli, residenti e attività commerciali e ogni bidone stradale sparirà. Entro il 2022 poi la raccolta capillare avanzerà nelle vie del centro, mentre si predispongono nuove campagne informative rivolte ai cittadini. La pedonalizzazione di Piazza Dante a Terramo si concretizzerà secondo il progetto iniziale deciso dalla loro aggiunta a Chiodi. I commercianti della zona temono per una diminuzione degli affari in centro storico, ma il sindaco D'Alberto assicura che tutto avverrà gradualmente senza disagi per le attività commerciali. Se l'amministrazione dell'ex sindaco di Terramo Gianni Chiodi decise per lo sventramento di Piazza Dante, luogo simbolo della città capoluogo, a favore di un parcheggio sotterraneo, lo fece per favorire l'afflusso di gente in centro storico. Un sacrificio enorme dal punto di vista urbanistico, mai particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, ma che aveva quantomeno lo scopo di rendere pedonale il piano raso della piazza e restituirlo alle attività ludiche e culturali. Sono passati 12 anni da allora e solo recentemente il comune di Terramo è riuscito ad ottenere la liberazione degli stagli a raso, gestiti fino ad oggi dalla ditta costruttrice dei parcheggi sotterranei. Una pedonalizzazione totale prevista dal progetto iniziale che sarebbe dovuta avvenire tanto tempo fa, ma che adesso fa paura ai commercianti della zona. Siamo tutti d'accordo, commercianti di Piazza Dante, via Carducci, zona limitrofe, che via Carducci, Piazza Dante sono il gateway del commercio, del corso di tutte queste zone centrali. E allora qual è la vostra proposta? Lasciare i parcheggi in Piazza Dante, a eccezione di quelli davanti ai 16-17 stalli di fronte al liceo classico, lasciare i parcheggi davanti alla Regina Margherita oppure toglierli, ma a patto che venga riaperto a Regina Margherita come spazio fruibile. Per il sindaco D'Alberto la riqualificazione di Piazza Dante rappresenta un tassello importante della Terramo del 2026. Ci sarà gradualità nella pedonalizzazione. Il commercio del centro storico non subirà scossoni. Dobbiamo muoverci assolutamente nell'ottica della gradualità. Noi ereditiamo, lo sappiamo bene, siamo un progetto che prevedeva prima, non con questa amministrazione, la rimozione e la sostituzione dei parcheggi sul piano arraso. Oggi ci siamo ripresi il controllo amministrativo della piazza, un risultato straordinario dopo tanti anni in cui è stata lasciata l'abbandono, è stata sventrata. Adesso governiamo questo processo nell'ottica della gradualità, quindi una riqualificazione della piazza, come ho detto ieri ai commercianti, con una conservazione di una quota di parcheggi, soprattutto in questa fase, in questo periodo. Vedremo quale sarà il punto d'incontro sulla base di una progettualità. Intanto ogni stallo che dovesse essere ridotto, già dei primi che abbiamo previsto, sostituito con delle misure compensative di sosta nelle aree e zone rimitrofe. Pensiamo ai tigli su cui stiamo lavorando per recuperare gli stalli, un parcheggio a rotazione in centro storico per facilitare ovviamente anche la rotazione e quindi il ricambio. Abbiamo già avviato l'interlocuzione per l'area adiacente all'ex-utap, quindi il punto d'incontro potrà essere sicuramente una riqualificazione, una rimodulazione che oggi governiamo noi con il concessionario per arrivare a una soluzione mista che consentirà di restituire dignità alla piazza senza perdere una quota di parcheggi. Un disegno di legge al vaglio del Parlamento potrebbe ben presto restituire maggiori funzioni alle province, indebolite dalla riforma del Rio. Ne ha parlato il consigliere di maggioranza della provincia dell'Aquila Gianluca Alfonsi. Vediamo. L'avvio di un nuovo percorso che a dire il vero è un percorso che si pone in diretta continuità con il passato e con Caruso che è stato premiale per il gran lavoro svolto in termini soprattutto di viabilità e di edilizia scolastica. Ci proponiamo insieme tutti di lavorare nell'interesse della nostra provincia in un momento particolarmente difficile che attraversiamo, che è quello del Covid, ma con la speranza, avendo i fondi del PNRR per poter dare risposte concrete ai tanti problemi ancora insoluti che il territorio attende. Lei ha parlato nel suo intervento di una scellerata legge del Rio che ha riformato di fatto la provincia, però quest'anno l'ente viene posto sotto una lente diversa. Quali sono le novità che ci sono e ci saranno soprattutto in primavera? Sì, finalmente il Governo e il Parlamento si sono resi conto che quella scellerata legge ha tolto servizi e non certo ha prodotto risparmi, quindi hanno fatto un passo indietro. C'è un disegno di legge ancorato con procedimento anche d'urgenza presso la Camera dei Deputati, il quale prevede la restituzione di importanti funzioni alla provincia e quindi conseguentemente anche dei fondi relativi per cui recupera la dignità a ente strategico per il territorio, è ente costituzionale perché ricordiamo che la provincia il referendum non è passato ed è alla pari dei comuni e delle regioni un ente costitutivo della nostra Repubblica, questo sia ben chiaro. E soprattutto restituisce insieme al Presidente un'aggiunta che sarà composta da un Vice Presidente e da un Assessore che codiveranno il Presidente nelle sue funzioni e nel suo lavoro. Quindi aspettiamo questo provvedimento che ripeto, su cui il Parlamento sta lavorando anche con urgenza e credo sia un contributo e un ritorno al passato e un recupero di dignità per un ente importante quale è l'ente provincia a cui sono chiaramente affezionato e che porto nel cuore. Primi 100 giorni di governo per la giunta di Clemente a San Giovanni Teatino, il Sindaco rivendica i primi atti amministrativi e i primi obiettivi raggiunti. La questione del tracciato ferroviario resta prioritario. Vediamo. Posso dire che è un traguardo, dicevo prima, importante perché veramente in questi 100 giorni abbiamo toccati tanti settori utili per il territorio, da quello che è l'ambiente, da quello che è il sociale, quindi parliamo di inaugurazione di parchi, parliamo di appalti assegnati dopo aver giustamente portato avanti delle serie gare, gare che permettono oggi di mettere in sicurezza molte zone di San Giovanni Alta, i primi San Giovanni Alta, quindi dicevo 100 giorni con progetti di inclusione, quindi parliamo di sociale, parliamo di dare una uguaglianza a quelle che sono oggi cittadine come tutto il mondo, cioè quello di pensare a tutti e non scordarsi di nessuno. Quindi ripeto, un bilancio positivo, un bilancio che mi porta oggi a descrivere oltre 40 punti, ripeto, dove andiamo a parlare di tutto, ma non di tutto solo a chiacchiere, ma di tutto con i fatti, quindi il mio invito è quello di seguirci, quello di veramente avere fiducia in noi, perché oltre a questi 100 giorni ne vogliamo fare, molti altri come così siamo stati designati per fare e dare sempre gioia e dare sempre sorriso al nostro paese, un paese che merita, un paese che deve avere veramente tanto, perché dobbiamo far valere quello che è la nostra zona e il nostro territorio. Siamo una cerniera importante tra Chieta e Pescara, una cerniera che deve essere ancora di più e sempre più valorizzata, perché veramente meritiamo questo, meritiamo di avere quello che veramente siamo. Tra il programma di questi giorni c'è stato anche un proseguo a quello che è stato già l'attività portata avanti negli anni precedenti, il discorso della ferrovia, un discorso molto importante, un discorso che ci sta portando a dei tavoli unitamente ad altri comuni di Mitri, fa parla di Chieta, Monopello e altri, per dare a San Giovanni Tiatino una risposta positiva e non un progetto che oggi andrebbe a tagliare e a ruvinare il nostro territorio. Quindi ripeto, potrei dire tanto, il tempo ne ho poco, ma io vi dico solo che abbiamo volontà, abbiamo voglia di fare, faremo veramente tutto quello che sarà possibile e mi auguro veramente di raggiungere un traguardo positivo per il paese. Si è tenuto ieri pomeriggio il primo incontro all'interno della maggioranza sul raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara. Primi pareri assolutamente positivi, ma il progetto, dicono dall'amministrazione comunale di Chieti, sarà discusso insieme ai cittadini e le altre città coinvolte. Vediamo. La città di Chieti non è contraria al progetto. Questo in estrema sintesi quanto venuto fuori dalla prima giunta politica dedicata all'analisi del piano di velocizzazione della linea ferroviaria a Roma-Pescara. Si tratterebbe, secondo l'amministrazione, di un'opportunità fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale della città, anche perché gli interventi verrebbero finanziati dalle risorse del PNRR. Il cronoprogramma dei lavori di avvicinamento sono stati raggruppati su tre livelli, come conferma il Presidente del Consiglio Comunale della città, Teatina, Luigi Febo. Una è quella proprio tecnica che sta facendo gli uffici, che stanno portando avanti gli uffici sull'analisi tecnica del tracciato e eventuali interferenze. L'altro invece è l'ascolto con i cittadini rispetto a queste emergenze che sono chiare e evidente, le interferenze che ci sono. Il terzo punto, ancora più importante, è quello di un colloquio con RFI e con i comuni vicinori, San Giovanni e Manoppello, perché noi crediamo che questa sia un'occasione importante per la città, ascoltando le esigenze, le giuste esigenze dei cittadini, ma è un'opera infrastrutturale importante e nell'ottica di migliorare la sicurezza e anche rispetto all'ambiente. Il primo passo è quello di incontrare pubblicamente, anche attraverso un Consiglio Comunale straordinario, l'amministratore delegato di RFI, affinché quest'opera si realizzi nel modo più indolore possibile, studiando soluzioni alternative per i tratti più impattanti sia dal punto di vista antropico che economico, geologico, nonché ambientale, vista la presenza del fiume. Siamo allo sport, anche oggi il Pescara svolgerà una seduta di allenamento allo stadio Ghetto di Febo di Silvi, tra le necessità di mercato vi è quella della cessione di un portiere tra Jacobucci e di Gennaro con il Baby Sorrentino, che è ormai il titolare designato nel ruolo. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Anche la situazione portieri in casa Pescara potrebbe avere una soluzione nella parte finale del calciomercato. Uno tra Alessandro Iacobucci e Raffaele Di Gennaro in teoria lascerà la società biancazzurra. Se dovesse essere Iacobucci, l'ex portiere di Antella e Frosinone avrebbe chiuso con una sola partita all'attivo, proprio l'ultima prima della sosta ad Ancona, una breve parentesi con la squadra della sua città, il coronamento di un sogno comunque per uno che da ragazzo frequentava la Curva Nord. Se dovesse essere Di Gennaro, l'ipotesi al momento più plausibile, saprebbe di beffa per un giocatore che è stato tra i migliori per rendimenti nella prima parte della stagione fino al giorno dell'infortunio. Ed è proprio la gara della dodicesima giornata tra Pescara e Dolbia dello scorso 31 ottobre la sliding door delle gerarchie tra i pali. Una uscita provvidenziale di Di Gennaro evita la capitolazione al Pescara a pochi minuti della fine sul risultato di 0-0. Un'azione provvidenziale visto che poco dopo Drudi segnerà il gol partita, ma che costa al portiere la frattura della clavicola. Il baby Sorrentino, che aveva già impressionato in alcune amichevoli estive, diventa titolare. Di Gennaro si opera e inizia la riabilitazione. Il Pescara si cautela con lo svincolato Iacobucci. La linea più verde della società, ora che il primo posto è svanito, oltre che le indubbie capacità, hanno reso Sorrentino il titolare e per Di Gennaro una beffa doppia, tanto da diventare il potenziale sacrificabile dopo due mesi da assoluto protagonista. Resta però da capire quali saranno le dinamiche di mercato. Sul 28enne Scuola Inter, sovente perseguitato dagli infortuni, eventuali club possono avanzare dubbi sul pieno recupero dopo la convalescenza. D'altro canto, Iacobucci è nel pieno delle sue forze e ad Ancona ha giocato una buona gara. Entrambi hanno il contratto fino al prossimo giugno. Intanto, partito Radaeli, il preparatore dei portieri, Luca Aprile, si prende cura, oltre che di Sorrentino e Iacobucci, anche del 2004 Simone Servalli della Primavera, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo dalle giovanili dell'Albino Leffe. Conferenza stampa nel pomeriggio del presidente del Teramo Massimo Chierchia, che ha ufficializzato che il diavolo ha i soldi per poter terminare la stagione. Un traguardo, ha ammesso Chierchia, molto importante. Il Massimo dirigente ha comunque ribadito che qualora ci fossero forze imprenditoriali disposti a rilevare la società per farla progredire il gruppo che presiede sarebbe pronto a fare un passo indietro. Vediamo. E ci tengo a ringraziare la dottoressa Claudia Capuano, l'avvocato Paola Capuano e il giudice che segue il procedimento delle nostre aziende. E qui vi inviterai già a fare una riflessione. Per aver permesso e compreso che il pagamento dei miei sponsor, e cito, la MGAT, del dottor Mario Ciaccia, la Federazione Property del dottor Davide Ciaccia e la Edel Green Italia SPA del sottoscritto, che sono fondamentali per l'esistenza della società sportiva Teramo Calcio 1913, per la sua città e non per ultimo per tutti i dipendenti, tesserati e chiunque ne riceve beneficio. È innegabile che questi soldi servono soprattutto per il campionato, per la gestione e per finire il campionato. Non vanno buttati nel calciomercato, ma nella logica del miglioramento della squadra si può continuare anche a fare come stiamo facendo, perché secondo me già abbiamo migliorato la squadra. Se a noi ci danno la possibilità di continuare lo faremo ben volentieri, però ripeto, se c'è qualcuno del territorio o fuori dal territorio che oggi farebbe il bene del Teramo, farebbe meglio di quello che facciamo noi, saremo disposti a fare un passo indietro. Noi non scappiamo, non ci tiriamo indietro, ma siamo a disposizione per chi potrà fare meglio di noi. Presidente Campitelli ci siamo sentiti al telefono, sollecitato e non ha nessuna possibilità di mettere da quello che mi ha detto una situazione per diventare o fare gruppo per rientrare nella società, ma lo ringrazio di nuovo, pur se fosse un Euro, una telefonata di supporto o qualsiasi cosa che oggi possa aiutare il Teramo Calcio. Amichevole a porte chiuse ieri per il Chieti a Penne, i Nero Verdi si sono imposti uno a tre con le reti di Fabrizi Mele e Paletta. Al termine dell'allenamento congiunto, l'allenatore dei Nero Verdi Alessandro Lucarelli ha parlato del momento della squadra e della voglia di disputare una seconda parte della stagione migliore della prima. Vediamo. È un piacere ritrovare dopo alcuni mesi Mr. Lucarelli ai nostri microfoni, puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, il Covid vi è ancora lontani e questo vi dà la possibilità di prepararvi al meglio per la ripresa del campionato. Sì, dobbiamo essere bravi a sfruttare questo e approfittare di questo periodo di sosta per sistemare le cose, per recuperare tutti gli infortunati, quello che stiamo facendo, riprendere la condizione, chi arrivava da un periodo di un infortunio e quindi ha la possibilità di sistemare la propria condizione fisica e di fare integrare i nuovi perché sono arrivati Orlando, tempo fa è arrivato anche Bruno il Quasì e stiamo aspettando altri due calciatori che credo la società mi ha confermato dovrebbero arrivare per completare il gruppo squadra e quindi riaffrontare l'ultima di campionato e poi partire per il giro di ritorno che dobbiamo assolutamente cercare di fare di più di quello che abbiamo fatto nel giro di andata. Eccoci proviamo, arriveranno dei difensori visto che nell'ultimo periodo di campionato c'erano stati alcuni problemi in quel reparto. Sì, ci sono stati soprattutto una serie di infortuni che ci hanno un pochettino penalizzato però adesso dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare a così arriverà sicuramente un difensore, un altro centrocampista che andrà a riempire ancora di più la rosa perché sono usciti diversi calciatori però la società sta lavorando in questa direzione, sta cercando di accontentarmi per cercare di creare un gruppo squadra che ci porti alla salvezza, l'obiettivo che noi dobbiamo assolutamente raggiungere. Quale sarà il futuro visto che comunque il 2022 è anche l'anno del centenario per il Chieti e sicuramente i tifosi si aspettano qualcosa di importante da questa squadra? A noi sicuramente l'obiettivo è quello di cominciare subito con le rega anatesi e di fare una grande partita perché è vero che affrontiamo la prima della classe ma noi dobbiamo pensare a fare punti anche con loro perché bisogna entrare con questa mentalità all'inizio del campionato e noi stiamo lavorando forte, stiamo lavorando bene, stiamo cercando di dare il massimo, di farci trovare pronti appena sarà pronto, appena inizierà il campionato, non sappiamo ancora quando perché fino adesso al 23 è possibile pure uno slittamento ulteriore ma noi dobbiamo pensare solo a noi e lavorare come stiamo facendo adesso. Io del gruppo squadra in questo momento sono soddisfatto perché sicuramente sono arrivati dei calciatori che hanno più esperienza, hanno più diciamo in questa categoria, ci possono dare più sostanza e anche quelli che arriveranno che adesso sono in prova ma sicuramente la società farà di tutto per accontentare e cercare di riempire come dicevo la Rosa, noi saremo pronti per l'inizio del nuovo campionato. Passiamo ora al volley, bloccati i campionati nazionali di B e quelli regionali di C e D per due settimane almeno per ora, si prosegue in A2 e in A3. In A2 pausa per turno della Seicortona che tornerà a giocare mercoledì 19 alle ore 20 a Castellana Grotte in un recupero. In A3 l'Abbapinetto sarà impegnata domani alle ore 20 e 30 sul campo del Prata di Pordenone in attesa di recuperare il match interno col Belluno mercoledì 19 gennaio alle ore 20 e 30 c'è anche l'ufficialità. In A2 femminile invece rinviata al Tino Sassuola. Il nostro telegiornale termina qui, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social Youtube e al sito www.tv6.it. L'informazione torna alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione